Grazie a tutti. Ho vissuto in questa città tutta la vita. Sono il padre di Howard. E sono gay. Io sono la madre di Howard. E sono molto fiera di lui. E sono... sono lesbica. Scusate. Salve. Io ho il negozio Sposa Bella per le spose più affascinanti e posso dirgli che Howard ha ottimo gusto e anche io. Quindi sono gay. Io sono il parrucchiere di Howard e sono gay. E sono anche calvo. Io consegno la posta a Howard e a tutti gli altri. Sono un impiegato postale e sono gay. Capitano dei Vigili del Fuoco, Fred Mooney, con la brigata volontaria antincendio. Howard è sempre stato disponibile a dare una mano. Gay! Sono 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 gay! Grazie a tutti.